La straordinaria valenza dal punto di vista psicologico del racconto di Dickens deve essere anche inserita all'interno di quello che è stato il processo della rivoluzione industriale. Dickens racconta attraverso la storia di Scrooge quel decadimento dal punto di vista dell'umanizzazione, dal punto di vista delle capacità relazionali, dal punto di vista dell'isolamento che si è andato sempre di più accentuando insieme con la rivoluzione industriale perché la rivoluzione industriale non soltanto ha portato dei grandi benefici all'umanità ma anche una serie di cambiamenti dal punto di vista comportamentale sia a livello individuale sia a livello sociale. La lessitimia è proprio un prodotto del deficit, delle carenze, dell'ambiente evolutivo. e quindi della famiglia e noi sappiamo che ovviamente la famiglia si è andata notevolmente trasformando specialmente negli ultimi due secoli proprio in virtù del sviluppo industriale. Quindi Scrooge è un campione della psicopatologia della rivoluzione industriale. Il costrutto della lessitimia compare nell'ambito della ricerca clinica alla fine degli anni 70 e è un costrutto che ha avuto un enorme successo dal punto di vista della diagnosi caratterizzata dalla mancanza di parole per le emozioni. Le condizioni della lessitimia sono anche correlate a una forte carenza dell'immaginazione e quindi negli alessitimici noi troviamo la difficoltà di sognare la difficoltà di immaginare la difficoltà di riuscire a sviluppare quegli stimoli che possono provenire nell'ambito della vita reale al servizio del teatro interiore. La lessitimia ovviamente coincide con un deficit della capacità empatica cioè la capacità appunto di mettersi nei panni di un'altra persona e sulla base di questo movimento riuscire a costruire una relazione efficace finalizzata alla condivisione, all'affettività, all'esperienza amorosa. In tutte le ricerche che noi facciamo troviamo come nell'adolescenza che è proprio il periodo della vita in cui hanno esordio sia le dipendenze patologiche sia i disturbi del comportamento alimentare vedi bulimia, anoressia, abbuffata compulsiva ma anche i disturbi della condotta come per esempio i comportamenti violenti o il bullismo hanno sempre alla base una condizione alessitimica. Certamente nel racconto di Scrooge c'è anche un'indicazione di carattere terapeutico e l'aspetto terapeutico è essenzialmente la possibilità di rientrare in rapporto con le proprie emozioni ma anche con il proprio corpo. Tutte le esperienze gruppali, riabilitative, creative certamente sono tutte finalizzate alla possibilità di poter oltrepassare questo deficit che caratterizza alcuni soggetti relativamente a tutte quelle condizioni che molto spesso con le quali ci confrontiamo per esempio l'incapacità di valutare adeguatamente le conseguenze del proprio comportamento sugli altri. L'attore è di fronte allo sguardo degli altri e anche un recupero della possibilità di poter finalmente accedere all'esperienza del rispecchiamento facciale del guardarsi, dell'essere guardati non più caratterizzato dal sentimento della paura e soprattutto della vergogna alla base dell'alessitimia c'è la vergogna delle proprie emozioni quindi certamente Dickens per via assolutamente naturale ha intuito che quella era la sua strada terapeutica.